Stai pensando di adottare un gatto siamese? In questo video di Animal Penia spieghiamo tutto ciò che c'è da sapere su questa razza di gatto. Iniziamo! Origine La razza del gatto siamese proviene dall'antico regno del Siam, l'attuale Thailandia. Dal 1880 questo tipo di gatto iniziò ad essere commercializzato nelle spedizioni nel Regno Unito e successivamente negli Stati Uniti. Negli anni 50 dello scorso ventesimo secolo il gatto siamese iniziò a guadagnare importanza essendo scelto da molti allevatori e giudici come membri di concorsi di bellezza. Abbiamo trovato due varietà di gatto siamese. Il moderno gatto siamese è una varietà apparsa nel 2001 in cui si cerca uno stile più fine allungato orientale. I lineamenti sono marcati e pronunciati. D'altra parte il gatto siamese tradizionale o thailandese è probabilmente il più conosciuto. La costituzione di questo tipo di gatto siamese è quella tipica di un gatto comune che mostra i colori tipici e originali del gatto siamese tradizionale. Entrambe le varietà sono caratterizzate dalla tipica colorazione a punta, colorazione scura dove la temperatura corporea più bassa e contrasta con i toni del resto del corpo felino. Caratteristiche Il gatto siamese si caratterizza per essere snello, stilizzato e muscoloso, di statura media con un corpo orientale. Le femmine di solito pesano tra 2,5 e 3 kg, mentre maschine pesano tra 3,5 e 5,5 kg. Hanno una coda stretta e piatta e una testa a forma di cuneo che si assottiglia verso il muso. I suoi occhi sono a mandorla di un intenso colore blu. Le orecchie sono erette e grandi. Il gatto siamese è una razza allergenica. Il gatto talendese invece è più muscoloso, con zampe di media lunghezza, testa più arrotondata e corpo compatto arrotondato. Per quanto riguarda i colori del siamese moderno troviamo il marrone scuro, il marrone icaro, il grigio scuro, il grigio chiaro, arancio scuro, arancio chiaro, cannella fulvo e bianco. D'altra parte i colori del tai siamese sono marrone scuro, marrone chiaro, grigio scuro, grigio chiaro, arancione scuro e arancione chiaro e tabby point. Entrambi i tipi di siamese hanno colorazioni differenti pur presentando la tipica caratteristica appuntita. Carattere. Si distingue per la sua iperattività e agilità. È un compagno allegro, divertente e affettuoso. Il siamese è noto anche per il suo miagolio costante e forte, che gli è valso il soprannome del grande miau. I gatti siamesi sono leali e devoti ai loro proprietari, esprimono facilmente i loro desideri ed emozioni. La loro personalità può variare, possono essere socievoli e curiosi o timidi. Avere un compagno di cocciolata può aiutare nello sviluppo della personalità, in quanto dà loro un senso di famiglia. Ai siamesi piacciono i giochi, quindi puoi provare a insegnargli a cercare oggetti o lanciarglieli. Scopri altre razze di gatti popolari nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Cura Il gatto siamese è una razza pulita, calma e richiede cure specifiche. Per quanto riguarda il cibo può essere esigente, quindi è importante fornirgli cibo di qualità e determinare se preferisce le crocchette o il cibo umido. I cambiamenti nella dieta devono essere apportati gradualmente. Infatti il siamese ha bisogno di esercizio fisico e mentale per mantenersi in buona forma e arricchire il suo ambiente. Sebbene si pulisca da solo richiede una spazzolatura settimanale. È anche sensibile alla temperatura e prediligia ambienti caldi. Per quanto riguarda l'educazione si raccomanda di essere fermi e pazienti, evitando di gridare o mostrare ostilità che possono causare nervosismo nel gatto siamese. Salute Il gatto siamese gode solitamente di buona salute. Prova ne sono i 15 anni di longevità media della razza. Anche così e come in tutte le razze ci sono malattie più presenti. Nel caso del 6 mese, strabismo, infezioni respiratorie, malattie cardiache, problemi di circolazione, obesità, otite o sordità. Presta attenzione al tuo gatto, prenditi cura di lui e offrighi molto affetto. Avrai un amico che sarà con te per molto tempo. Ricorda che il 6 mese più longevo arrivò a vivere ben 36 anni. Se vuoi conoscere altre razze di gatti e le loro caratteristiche, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Dicci, hai intenzione di adottare un gatto siamese? Alla prossima volta esperti!